Direttore D'Urso, un momento molto particolare questa mattina all'ospedale San Donato, la visita della Marrona di Loreto è molto gradita e ha portato molta gente a venire un attimo a venerare questa icona sacra così importante. Sì, il Vescovo ci ha chiesto se era possibile, io ho consentito, mi sembra un grande dono da parte dell'Arcivescovo fatta all'intera comunità ospedaliera, è un momento di conforto per chi ha tanto lavorato in questo periodo ma anche un momento di speranza per la stagione che ci auguriamo tutti senza Covid, spero il più prima possibile.